Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo anche che sono attivo anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Nel caso di oggi, in un intricato intreccio di menzogne e inganni, scopriremo le sfumature disturbanti di una mente avvolta nella falsità patologica. Taylor Parker nasce l'8 dicembre del 1992 e cresce a Mount Pleasant, in Texas, dove vive con i suoi genitori, Mark e Shona, e suo fratello minore, Zachary. Taylor vive un'infanzia normale, i suoi genitori la amano tanto. Quando inizia ad andare a scuola, prende degli ottimi voti, gioca basket e a baseball ed entra nella squadra delle cheerleader, delle elementari. Le cose cambiano quando ha tra gli 8 e i 9 anni e frequenta la terza elementare. Taylor, infatti, inizia a raccontare delle vere e proprie storie folli, fuori da ogni logica, che sembrano dei sogni. Il punto è che lei sostiene che tutte queste assurdità le siano successe davvero. Taylor diventa una bugiarda patologica. Sempre durante lo stesso anno scolastico, proprio per via delle sue storie fantasiose, inizia ad avere problemi con un insegnante. E di punto in bianco, comincia anche ad accusare problemi di stomaco molto importanti. I dolori sono così forti da farle perdere gran parte dell'anno della terza elementare. Non si sa se questi dolori siano reali o meno, Taylor tende a mentire su ogni cosa e, come detto, aveva problemi con un insegnante, quindi è probabile che la bambina abbia trovato la scusa del mal di stomaco per evitare di andare a scuola. Personalmente dubito che Taylor stesse male, dato che, di colpo, in quarta elementare, i suoi problemi di stomaco, i suoi dolori, spariscono magicamente. All'età di 10 anni inizia a raccontare delle bugie che non dovrebbero, a mio viso, uscire dalla bocca di nessuno, figuriamoci di una bambina così piccola. Taylor dice alle sue amichette di avere un cancro e racconta ai suoi compagni di classe che la sua famiglia è coinvolta nella mafia. La bugia più assurda, tuttavia, è la seguente. Taylor va a dire in giro di aver avuto un rapporto intimo sotto la doccia. A 10 anni! Capirete che queste non sono bugie innocenti, forse quella di avere i genitori mafiosi la detta per impaurire o impietosire i compagni, ma le altre due benzogne sottintendono davvero che qualcosa in lei non va, almeno per me. Oltre a essere una grande bugiarda, Taylor è una prepotente di prima categoria. Era una ragazzina tenera che aveva un sacco di amici, ma in quarta elementare cambia atteggiamento. La bambina, infatti, inventa storie assurde sui suoi amichetti di classe. E le va a raccontare all'insegnante per metterli nei guai. Ecco perché inizia a perdere tutti gli amici, non viene mai invitata alle feste di compleanno o ai pigiama party delle sue compagne. Tuttavia, Taylor ha una faccia tosta incredibile perché dice alla sua mamma che è stata invitata. Si presenta a casa della compagna di classe che ha organizzato il pigiama party e a quel punto i genitori della bambina la invitano a restare. Taylor non abbandona mai il suo comportamento inopportuno. Cresce raccontando bugie su se stessa per attirare l'attenzione e sugli altri per metterli nei guai. Inizia ad andare al liceo e le cose non fanno altro che peggiorare. I suoi genitori divorziano e questo evento ha un enorme impatto su tutta la famiglia. Taylor si separa anche dal suo fratello in quanto lei va a stare con suo padre mentre Zachary va a vivere con sua madre. In realtà questa è stata una decisione di Taylor. A lei, sua madre, non piace. Preferisce suo padre Mark. Tuttavia Mark non importa molto dei figli visto che li usa per impressionare altre donne. Questa situazione induce Taylor a sviluppare un disturbo d'ansia, inizia ad avere problemi di salute mentale e si fionda sul cibo per consolarsi. Così prende molto peso, infatti all'età di 14 anni arriva a pesare 113 kg. Quando va al liceo, come accennato, le bugie proseguono. Continua a sostenere di avere dei problemi di salute molto gravi, a dire alle persone di avere un cancro o la sclerosi multipla. Alcune volte si presenta a scuola con le stampelle senza un motivo. Cerca solo di atterrare l'attenzione su di sé. Spesso si reca in ospedale lamentando sintomi inesistenti per fare degli esami. La ragazza agli occhi degli altri cerca disperatamente di mostrarsi come una vittima. Vuole che le persone si dispiacciano per lei. Spesso infatti condivide sui social media delle foto che la ritraggono in ospedale, stesa sul letto con la cannula nasale. Racconta al mondo quanto sia malata solo per ottenere compassione. Continua a vantarsi di avere rapporti intimi regolarmente con il suo ragazzo. Racconta alle amiche le sue esperienze. E di nuovo mente, perché Taylor non ha un fidanzato. Quando a scuola racconta del suo ragazzo, le compagne le chiedono se possono vedere una sua foto, perché chiaramente il fidanzato inesistente di Taylor non frequenta la sua stessa scuola. Taylor tuttavia ripete sempre di non avere delle sue foto perché lui è molto timido e non ama farsi fotografare. In compenso, la ragazzina mostra alle compagne di scuola i presunti messaggi provocanti che lui le scrive. Taylor in realtà ha salvato nella sua rubrica il suo stesso numero sotto il nome del finto fidanzato, quindi ha iniziato a mandarsi degli sms da sola generando una conversazione fasulla. Oltre a ciò, pensate voi che follia, Taylor chiede alle sue compagne di classe delle loro foto provocanti. Vuole entrare nelle chat room e caricarle sul suo profilo spacciandosi per loro per trovare dei ragazzi. Fortunatamente nessuna delle ragazze ha seconda alla sua richiesta. C'è un'altra bugia che Taylor racconta continuamente a scuola, cioè sostiene di essere incinta. Cosa non vera. Taylor, al liceo, racconta di essere incinta davvero tante volte, ma tutte le gravidanze si concludono con un aborto spontaneo. Una compagna di classe a un certo punto rimane incinta davvero al liceo e Taylor ne diventa ossessionata. Le scatta una foto, va a casa e ritocca la fotografia mettendo la propria testa sul corpo di questa ragazza in dolce attesa. Ora, la foto sembra davvero rappresentare Taylor incinta, quindi Taylor inizia a mostrarla a scuola. Molte persone ovviamente si rendono conto che Taylor racconta un sacco di balle e la affrontano svariate volte, ma Taylor sa solo mentire ancora, ancora e ancora. Se si rende conto che alcune ragazze non credono più alle sue bugie, le taglia completamente fuori dalla sua vita. Passa un po' di tempo, Taylor ha 17 anni e rimane davvero incinta. È andata a letto con un adolescente di nome Donald, ma i due non stanno insieme. Di conseguenza Donald non vuole avere nulla a che fare con il bambino, quindi semplicemente sparisce dalla vita di Taylor. Lei, ragazza madre, lascia la scuola e mette al mondo una bambina, mentre Donald non pagherà mai nulla per il mantenimento. Quando la ragazza ha 18 anni comincia la sua prima relazione seria con un uomo di nome Tommy, entro pochissimo tempo i due decidono di sposarsi. Appena Taylor convola nozze con Tommy, le bugie le sfuggono decisamente di mano. C'è da dire che all'inizio la loro relazione era davvero fantastica, ma dopo il matrimonio la prima cosa che fa Taylor è tagliare i ponti con tutta la sua famiglia e lo fa per un motivo ben preciso. Racconta a Tommy che la sua famiglia è molto ricca. Suo padre possiede la Molten Salt Company, un'azienda americana che produce sale per alimenti. Ora, attenzione, questa azienda è la principale produttrice e distributrice di sale del Nord America. Taylor sostiene che avrebbe ereditato milioni grazie agli affari di famiglia. Si direbbe che questa sia una fantastica bugia, ma non è così. Infatti la sua famiglia, oltre ad essere estremamente ricca e potente, secondo la ragazza è anche molto, molto malvagia. Sua madre, stando a ciò che racconta Taylor, ha legami con persone decisamente da evitare nelle alte sfere e minaccierebbe in continuazione la figlia. Shona vuole da sempre che Taylor, sua figlia, muoia. Tommy pare credere a queste bugie e il matrimonio va avanti, ma Taylor non beneficia delle ricchezze di cui ha parlato al marito. La coppia fa fatica a mantenersi perché l'unico che lavora è Tommy, dato che Taylor afferma di non averne bisogno, perché presto avrebbe ereditato tutti quei soldi. La verità è che Taylor è incredibilmente pigra, non vuole lavorare, spesso cerca un impiego, ma non arriva neanche a concludere il primo giorno. Col tempo Tommy si stufa di essere l'unica guadagnare per mantenere la famiglia e è a questo punto che Taylor rincomincia a fingere di essere malata, proprio per non dover andare a lavorare. Dice continuamente a Tommy che sta così tanto male da non riuscire nemmeno ad alzarsi dal letto. E Tommy le crede, quindi continua a farsi carico di sua moglie e della sua figliastra da solo. Ma non è finita qui, perché quando rientra dal lavoro svolge anche tutte le faccende domestiche, cucina, pulisce ed è l'unico che si prende cura della bambina. Taylor in realtà sta tutto il giorno sul divano a guardare la televisione, posta sui social media degli stati in cui racconta quanto sta male, oppure fa visita a diversi membri della famiglia per chiedere loro dei soldi in ginocchio, dato che lei sta così male e non riesce proprio a lavorare. Fa anche domanda per ottenere dei sussidi e dei buoni pasto, mente sul suo stato civile e sul reddito del marito per ottenere dei soldi dal governo, che non ha il diritto di avere. Questa situazione prosegue per anni. Taylor si reca da tantissimi dottori cercando di ricevere una diagnosi, una qualsiasi diagnosi, prova a farsi diagnosticare un cancro e in un'occasione dice a un medico di aver avuto un ictus. In un'altra occasione va da un altro medico dicendo di aver perso la capacità di vedere i colori. Ma anche questa è una bugia. Tuttavia, ascoltate ben bene, l'unica cosa che viene diagnosticata a Taylor è l'emicrania. Ben presto diventa dipendente dai farmaci antidolorifici da prescrizione, dato che aveva assunto una quantità importante di medicinali pesanti per dei sintomi che nemmeno accusava. Taylor intraprende una pratica chiamata Doctor Shopping. Significa che va da un dottore all'altro tentando di ottenere quante più prescrizioni possibili in modo da accumulare tutti i farmaci per assecondare la sua dipendenza. Ogni volta che un medico le dice che lei non ha niente che non va, Taylor cambia dottore. Ne consulta così tanti che nel giro di qualche anno accumula un debito di 440.000 dollari. Questi soldi, ovviamente, li deve pagare Tommy. Taylor a questo punto ha ormai 21 anni, rimane incinta di Tommy e decide di tenere il bambino. Tuttavia, la ragazza ha sempre trascurato sua figlia. Non le ha mai dimostrato affetto e appena può, la affida a chiunque conosca. In pratica quella bambina sembra un pacco postale, poverina. Non ha mai voluto prendersi cura di lei. Eppure Taylor porta avanti anche la seconda gravidanza e mette al mondo un maschietto. La donna sta ricevendo molte attenzioni da parte della gente che le sta attorno, quindi dà più cura al secondo genito. Tuttavia, non passa molto tempo prima che Taylor si stufi pure di suo figlio. Decide di non volere altri figli, non fa per lei fare la mamma. Dunque, prende la decisione di sottoporsi alla legatura delle tube. Intervento che non è reversibile. Questo vuol dire che Taylor non potrà più avere bambini. In seguito, Taylor decide che vuole sottoporsi a un intervento di vendaggio gastrico e prende un aereo per il Messico. Grazie a questa operazione effettivamente perde molto peso, ma inizia ad avere problemi di salute. I sintomi che descrive questa volta sono reali. Taylor ha un forte sanguinamento all'utero e le viene diagnosticata l'endometriosi. Taylor quindi deve affrontare un'altra operazione. Viene messa sotto anestesia e durante l'intervento il medico nota che la sua endometriosi è molto più grave di quanto credesse inizialmente, quindi prende la decisione di sottoporre la paziente a un'isterectomia di emergenza. Quando Taylor si risveglia, scopre che le è stato asportato l'utero. Come detto, per lei è impossibile avere figli. A seguito del vendaggio gastrico e dell'isterectomia, Taylor diventa una persona diversa. Perde completamente ogni interesse per la sua famiglia. Chiariamoci, non è mai stata tanto interessata ai suoi cari, ma ora non prova più alcun coinvolgimento. Sta trascurando e ignorando se la sua bambina, che ormai ha 5 anni, sia suo figlio nato da poco. Taylor ora prova più interesse a uscire, andare alle feste e bere. Inizia anche a postare tante foto su Facebook per mostrare il suo corpo e flirta con tanti uomini sui social media. Chiaramente all'insaputa di Tommy. Modifica così tanto le foto, che alla fine sembra una persona totalmente diversa e inizia a mandare delle immagini piccanti di se stessa ad altri uomini tramite dei messaggi privati. Tommy lo scopre, ma Taylor è una grande manipolatrice, quindi riesce a convincerlo che non lo tradisce affatto e tra loro tutto prosegue bene. Inoltre, Taylor, con i soldi di Tommy, avvia diverse attività. Attraverso i social media si descrive come un grande capo, sottolinea la notevole responsabilità di gestire tutte queste attività da sola. Tuttavia, si imbarca in progetti che, dopo un po', l'annoiano. Quindi abbandona tutto e i soldi di Tommy vengono solo e soltanto sprecati. Arriviamo al 2016. Taylor ha 23 anni e fa amicizie con una donna di nome Caitlin Glass. Quando Caitlin dice a Taylor che soffre di sclerosi multipla, quest'ultima afferma di averla anche lei. Taylor, chiariamo, non soffre davvero di sclerosi multipla, ma Caitlin non ha motivo di dubitarne. Chi mentirebbe riguardo a una cosa del genere? Taylor in poco tempo diventa ossessionata da Caitlin. Ogni volta che la donna esce, Taylor spunta fuori, si presenta a tutti gli appuntamenti che Caitlin ha in ospedale. Ogni volta che Caitlin spiega i sintomi della sua malattia, anche Taylor dice di accusare gli stessi identici sintomi. Taylor sta seguendo Caitlin per imparare più informazioni possibili sulla sclerosi multipla, così anche lei potrà fingere di averla. Taylor, in effetti, viene ricoverata in ospedale dopo aver detto di accusare gli stessi sintomi che ha Caitlin. Caitlin all'inizio le crede, ma col tempo comincia a dubitare di Taylor, in quanto i sintomi della poverina durano per settimane, anche dopo le visite in ospedale. Invece Taylor si riprende molto in fretta, un po' troppo in fretta. La cosa inizia dunque a insospettire Caitlin. Taylor la sta praticamente perseguitando, vuole imitarla in ogni aspetto della sua vita. Caitlin fa parte di un gruppo chiamato Jeep Club, che riunisce tutte le persone che possiedono una jeep, si incontrano e vanno in giro insieme, si fermano a prendere qualcosa da bere o da mangiare, chiacchierano tra loro. Ebbene, Taylor obbliga Tommy a comprare una jeep in modo che anche lei possa unirsi a questo club. Tenete presente che non potrebbero permettersela una macchina nuova. Taylor continua a non lavorare, l'unico che porta a casa dei soldi resta Tommy e hanno due figli da crescere. Taylor, tuttavia, riesce a manipolare Tommy per convincerlo a comprare la jeep. Quando Taylor ottiene l'ambito regalo, scompare anche per interi fine settimana con gli altri membri del club, ma lei ha dei figli piccoli, di cui dovrebbe prendersi cura. E invece li lascia a casa senza preoccuparsene. Inoltre, quando passa il tempo fuori con i membri del club, Taylor tradisce Tommy. In un'occasione viene sorpresa con un uomo. È la moglie di quest'ultimo a beccarli. Da questo momento, Taylor dice a tutti i frequentatori del club che suo marito, Tommy, è un violento. Ecco perché lo tradisce. Ecco perché si allontana in loro compagnia. Ha bisogno di prendersi una pausa da lui. Taylor, per supportare questa bugia, si scaglia contro i muri e i mobili per procurarsi dei lividi. In un'occasione, Taylor cerca addirittura di sedurre il marito di Caitlyn. E meno male che dice che Caitlyn è la sua migliore amica del momento. Per Caitlyn, questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Non vuole più avere nulla a che fare con Taylor. Nel frattempo, Tommy, quando non è al lavoro, è sempre a casa a prendersi cura dei bambini. E non ha idea di dove sia Taylor. Lei, per spiegare le sue assenze, dice a Tommy che sta frequentando una scuola per infermieri, perché ha capito di voler abbracciare questa professione. Dunque spiega a Tommy che va via nei fine settimana perché è stata chiamata per un'operazione d'urgenza. A questo punto potreste pensare a come abbia fatto Tommy a innamorarsi di questa donna? Come fa a non scoprire che tutto ciò che Taylor gli racconta sono bugie? Beh, Taylor è solita entrare nel suo profilo Facebook e sugli altri social media per bloccare chiunque potrebbe svelare al marito la sua doppia vita. Ma Tommy alla fine scopre comunque tutte le sue bugie che Taylor lo sta tradendo, che non fa l'infermiera e che la sua famiglia non è composta da persone né madvagie né ricche. Tommy a questo punto lascia immediatamente Taylor e chiede il divorzio. Taylor a questo punto ha 25 anni, lascia la casa che ha condiviso con Tommy, gli lascia anche suo figlio e decide di portare con sé sua figlia e inizia ad andare a letto con diversi uomini portando la bambina con sé. Taylor quindi va a casa di questi uomini e si intrattiene con loro al piano di sopra mentre lascia sua figlia di sotto. Dopo la separazione Taylor non mostra alcun interesse per suo figlio ma ha ancora il diritto di visita quindi nelle rare occasioni in cui lo incontra lo trascura completamente. Infatti ogni volta che il bambino torna da suo padre è sporco, non viene lavato, non viene mandato a letto a un orario adeguato. In un'occasione rientra con una grossa ferita sul sedere. Tommy lo porta in ospedale così si scopre che ha preso un'infezione batterica perché Taylor non gli ha cambiato la biancheria intima per cinque giorni di fila. Dopo questo avvenimento Tommy decide di farle revocare il diritto di visita. Taylor inoltre lascia pure sua figlia a casa di alcuni familiari per la maggior parte del tempo. In pratica malapena si prende cura di lei. A questo punto Taylor coltiva una nuova relazione con un uomo di nome Hunter Parker. Appena la donna lo incontra si infatua quindi si affretta a portare a termine la procedura del divorzio da Tommy per poi sposare Hunter appena 11 giorni dopo che il divorzio è diventato effettivo. Proprio come è accaduto con Tommy la relazione con Hunter inizia alla grande tuttavia non passa molto tempo prima che Taylor comincia a mentire. Racconta le solite bugie dice a Hunter che la sua famiglia è potente e molto ricca ma anche profondamente malvagia. La sua famiglia dice Taylor la odia la odia così tanto mente come al solito anche sulle sue malattie dicendo a Hunter che soffre di sclerosi multipla. Pensate che simula addirittura delle convulsioni ma la bugia più grande che racconta il nuovo marito è che lei è ancora in grado di avere figli. Taylor mente a Hunter proprio perché il marito le dice chiaramente che desidera dei bambini vuole creare una famiglia con lei. Taylor quindi gli racconta questa bugia per timore di perderlo. Tuttavia ben presto emerge la verità. In un'occasione Hunter è all'ospedale con Taylor per una delle sue tante misteriose malattie. Mentre il dottore la visita rivela che Taylor non può avere figli mentre Hunter è seduto all'interno dell'ufficio del medico. Hunter chiaramente si infuria con Taylor la vuole lasciare tuttavia lei riesce a maniporarlo cercando compassione per le sue svariate malattie immaginarie. Taylor in realtà non ha alcun interesse ad avere altri figli dato che ha già due bambini che sta trascurando completamente che ha sempre trascurato. Ciò nonostante non riesce a scrollarsi di dosso la sensazione che Hunter l'avrebbe lasciata se lei non fosse rimasta incinta. È a questo punto che Taylor escoge da un piano. Decide che avrebbe dato ad Hunter un bambino tramite la maternità surrogata. Quando lei gli comunica il suo progetto Hunter pensa immediatamente che non possono permetterselo non hanno abbastanza soldi ma Taylor gli ricorda che avrebbe ereditato una fortuna molto presto da sua nonna. Un uomo misterioso di nome Tim Hightower l'avrebbe contattata di lì a poco per informarla su tutti i dettagli della sua eredità. Non passa molto tempo prima che questo Tim inizia a mandare messaggi ad Hunter dicendogli che avrebbe consegnato 100.000 dollari a sua moglie molto molto presto. Hunter quindi si convince che Taylor possa permettersi di pagare una madre surrogata ma da questo momento lei assume un comportamento bizzarro. Inizia ad andare in giro e a pregare ogni persona presente nella sua vita affinché faccia da madre surrogata per lei. Ad esempio c'è un ex collega di Taylor di nome Lindsay che recentemente ha avuto un aborto molto molto traumatico. Taylor la contatta e le domanda dato che non sei più incinta potresti essere la mia madre surrogata? Ovviamente Lindsay risponde di no. Taylor però non molla e le offre 20.000 dollari ma Lindsay di nuovo rifiuta. Ci sono anche due amiche di Taylor di nome Abby e Mackenzie che stanno cercando di rimanere incinte. Quando Taylor lo scopre inizia a implorarle di portare in grembo suo figlio offre loro 100.000 dollari ciascuna ma di nuovo entrambe rifiutano questa assurda proposta. Alla fine queste sue due amiche rimangono davvero incinte e di nuovo Taylor diventa ossessionata. Vuole sapere tutto sulle loro gravidanze e le accompagna agli appuntamenti con i dottori lepedina è così determinata da trovare il lavoro presso l'ambulatorio di un'ostetrica Taylor osserva il lavoro che si svolge nel reparto chirurgico così da imparare come eseguire i cesarei comunque ragazzi lo so che questo caso è assurdo è folle ne sono consapevole sarà così fino alla fine procediamo fortunatamente a Debbie e Mackenzie quando danno alla luce i loro bambini non succede nulla di male questa situazione va avanti per mesi Taylor continua a cercare una donna disposta a portare avanti una gravidanza per lei intanto il tempo passa e Hunter inizia a diventare alquanto sospettoso comincia a non credere più al fatto che prima o poi a Taylor sarebbero stati regalati quei soldi probabilmente non otterrà alcuna eredità Hunter dice a Taylor che vuole una prova deve dimostrargli che quei soldi non sono solo un miraggio poco tempo dopo la richiesta come per magia Hunter riceve un messaggio dal misterioso team con la foto di un borsone blu pieno di soldi Hunter però anche dopo aver visto la foto continua a essere molto sospettoso quindi accende il computer va sulla home page di Google e cerca borsone blu pieno di soldi la foto che gli appare come primo risultato è la stessa che il misterioso team gli ha mandato tramite messaggio è a questo punto che Hunter decide che ne ha abbastanza ora riesce a comprendere i giochetti di Taylor e lei è la persona che sta dietro questo misterioso team non ci sono soldi e non le sta per arrivare un'eredità non c'è nessuna famiglia malvagia sono tutte bugie di Taylor quindi anche Hunter chiede il divorzio e Taylor torna di nuovo single arriviamo all'estate del 2019 Taylor a questo punto ha 26 anni e incontra un uomo di nome Wade Griffin durante una serata a un rodeo in Texas ah ecco ci tengo a precisare questa cosa tutta questa storia si svolge interamente in Texas sempre si rimane in questo stato i due iniziano a parlare decidono di rivedersi e ben presto si innamorano esattamente come per le precedenti due relazioni inizialmente Taylor finge di essere una persona che in realtà non è cucina la cena Wade e dà una mano nella fattoria della sua famiglia ora l'uomo fa il saldatore in un'azienda di tetti ma aiuta anche la sua famiglia a gestire la fattoria dove vengono venduti maiali selvatici Taylor esegue tutti i lavori domestici ma a distanza di poche settimane dall'inizio della relazione inizia a raccontare le sue bugie come al solito dice che ha una famiglia molto ricca e potente ma che ha implicazioni con la mafia tutti nella sua famiglia la odiano perché lei soffre di diverse malattie insomma continua a inventare le solite storie ma non si ferma solo a quelle in questa occasione perché a distanza di qualche settimana dall'inizio della loro relazione Taylor dice a Wade che è rimasta incinta di due gemelli ora noi sappiamo bene che non può rimanere incinta ma Wade non ne ha idea e reagisce alla notizia con felicità e stupore lui è davvero emozionato ha sempre desiderato di diventare papà ma la gravidanza di Taylor chiaramente non dura molto a lungo perché lei non è realmente incinta e ha bisogno di uscire da questa situazione appena poche settimane dopo l'annuncio della gravidanza di Taylor Wade riceve una strana telefonata da qualcuno che afferma di essere il padre della sua ragazza la persona al telefono sembra molto emotiva preoccupata e angosciata e dice a Wade che Taylor ha avuto un incidente molto grave stava aiutando qualcuno a trainare un'auto e mentre stava collegando la macchina al rimorchio i cavi di traino si sono spezzati quindi l'auto ha colpito Taylor direttamente sullo stomaco purtroppo ha avuto un aborto spontaneo questa sarebbe davvero una tragedia se solo fosse accaduta davvero in realtà la persona al telefono non è il padre di Taylor ma è Taylor mentre usa un'app di distorsione vocale passano alcune settimane Wade inizia a essere distante e Taylor ha la sensazione che lui l'avrebbe lasciata ma non può permettere che questo accada Taylor quindi inizia a dire a Wade che avrebbe ereditato un sacco di soldi la sua famiglia è molto ricca infatti possiede delle attività petrolifere Taylor inizia a raccontare questa bugia a Wade sperando che lui resti con lei per soldi Wade non ha ancora alcun motivo per dubitare di Taylor certo si sta allontanando da lei ma crede comunque a ciò che la sua ragazza gli dice quindi Taylor e Wade iniziano a spendere davvero tanti soldi lei lo convince a comprare un sacco di cose tramite i finanziamenti insomma Taylor avrebbe ereditato milioni di dollari quindi questi finanziamenti sarebbero stati saldati molto presto la coppia spende 29.000 dollari in attrezzature agricole per la fattoria di famiglia di Wade 21.000 dollari in bestiame 92.000 dollari per comprare un camioncino nuovo per Wade comprano anche alla mamma di Wade la macchina dei suoi sogni una nuova Nissan Altima ma non è mica finita qui spendono anche 50.000 dollari per ristrutturare una delle proprietà di Taylor Wade questi finanziamenti li ha fatti tutti a suo nome il debito quindi si sta accumulando ma Taylor gli ripete di non preoccuparsi perché i soldi che deve ereditare arriveranno presto noi sappiamo bene che i soldi di cui Taylor parla non esistono e anche le bollette in casa si stanno accumulando vengono sequestrate le attrezzature agricole della famiglia e Taylor chiama la mamma di Wade Connie per dirle che deve riportare la sua nuova macchina al concessionario perché c'è stato un richiamo cosa succede? in pratica quando un produttore di automobili determina che una macchina presenta un difetto legato alla sicurezza emette un richiamo informando i proprietari la mamma di Wade Connie non crede alle parole di Taylor quindi chiama il concessionario per avere spiegazioni e le dicono che non hanno mai emesso un richiamo per quella macchina ma che c'è comunque un problema qui quell'auto le dice l'operatore della concessionaria è stata acquistata da una donna di nome Taylor che però non l'ha mai pagata quindi anche la macchina viene sequestrata e i genitori di Wade capiscono che Taylor ha mentito non avrebbe mai ricevuto quei soldi e cosa ancora peggiore Wade ora è ricoperto di debiti i genitori di Wade gli dicono che deve chiudere questa relazione eppure in fretta deve allontanarsi il più possibile da quella donna perché porta guai ovviamente Taylor non vuole che Wade la molli deve assicurarsi che rimanga con lei a tutti i costi quindi se ne esce con un'altra audace bugia dice a Wade che i soldi dell'eredità non sono arrivati perché la sua malvagia mamma sta cercando di ucciderla nello specifico Taylor dice a Wade che appena sua madre Shona ha scoperto che lei avrebbe ereditato milioni di dollari ha deciso di farla fuori inoltre Shona in qualche modo è riuscita a intercettare il trasferimento di denaro e quei soldi li sta usando lei per assoldare qualcuno della mafia messicana che ammazzi Taylor purtroppo Wade crede a questa storia e Taylor poco tempo dopo inizia a ricevere delle email minacciose da una persona di nome Mandy Boy Taylor dice che questa Mandy in realtà è sua madre Shona sotto mentite spoglie in questa email c'è scritto che Taylor non merita di vivere che è una persona terribile questa Mandy poi inizia a inviare a Taylor delle email in cui scrive tutto quello che lei e Wade fanno durante il giorno scrive oggi vi ho visto eravate alla fattoria o ancora vi ho osservato tutto il giorno Taylor mostra questa email a Wade dicendo vedi vedi mio mamma è così potente è così ricca che deve aver acchierato i nostri telefoni conosce tutti i nostri movimenti sa sempre cosa stiamo facendo quando lo stiamo facendo e dove Wade di nuovo ci casca ma questa non è l'unica bugia che Taylor gli dice la donna inizia a inviarsi dei messaggi da sola fingendo di essere un uomo chiamato Coburn che dice di essere un agente dell'FBI questo agente viene assegnato a Taylor per proteggerla dalla mafia messicana questo vuol dire che ora Taylor ha il suo agente personale dell'FBI pronto a proteggerla dalla terribile mafia messicana che la sta cercando per ucciderla su ordine di sua madre l'agente Coburn dell'FBI manda dei messaggi anche a Wade dicendogli che la sua ragazza è in un terribile pericolo quindi entrambi devono fare tutto il possibile per proteggerla innanzitutto Taylor e sua figlia dovrebbero andare a vivere con lui Taylor e Wade vivono ancora separati perché sono passati solo pochi mesi da quando si sono messi insieme ma Taylor vuole trasferirsi da Wade e usa questa storia dell'agente dell'FBI per convincerlo a invitarla a stare da lui di conseguenza Wade propone a Taylor e a sua figlia di andare a vivere con lui così da proteggerla dalla mafia messicana ora quando Taylor si trasferisce da Wade quest'ultimo inizia a ricevere dei messaggi dall'agente dell'FBI che lo informano della presenza di altri agenti di stanza nei dintorni ma chiaramente sono tutti sottometite spoglie quindi non individuabili se Wade vede qualcuno girarsi fuori da casa sua non deve avvicinarsi o rischia di far saltare la copertura degli agenti dell'FBI alla fine del 2019 l'FBI invia un sms a Taylor per avvisarla che dopo una lunga sparatoria hanno finalmente arrestato sua mamma Shona questo vuol dire che ora Shona è dietro le sbarre e mentre si trova in prigione si impicca togliendosi la vita dopo l'epilogo di questa situazione angosciante Taylor promette a Wade che gli comprerà una casa da 3,5 milioni di dollari ora che sua madre è morta lei avrebbe finalmente ottenuto l'eredità a questo punto inizia la fase di acquisto della casa Taylor trova una villa enorme da 3,5 milioni di dollari firma tutti i documenti e ora dovrebbe versare un deposito di 200 mila dollari gli agenti immobiliari che si occupano di questa vendita sono convinti che Taylor sia una multimilionaria attendono dunque che arrivi questo deposito Taylor prova continuamente a effettuare bonifici bancari ma i soldi stranamente non arrivano mai ora che fa Taylor a questo punto cerca di pagare il deposito in certificati di royalty su petroglio e gas crea un'email fingendo di essere qualcuno della compagnia petrolifera western shell energy e invia tutta la documentazione falsa sui diritti d'autore della compagnia che equivale a 200 mila dollari l'agente immobiliare nemmeno nota che queste email sono state inviate da un normale indirizzo email e non da un indirizzo email ufficiale della società questa situazione comunque va avanti per mesi l'agente immobiliare prova a ottenere il deposito per la casa mentre taylor ripete che il patrimonio della sua famiglia sta per confluire nelle sue mani alla fine emerge che i certificati di royalty sono falsi e il processo d'acquisto della casa fallisce taylor per questo fallimento dà la colpa di nuovo a sua madre shona che però se ricordate dovrebbe essere morta ebbene taylor dice a wade che l'agente dell'fbi le ha mentito shona non è morta infatti è riuscita a scappare dalla prigione e non solo ha sabotato il trasferimento del denaro e ora sta dando la caccia a sua figlia di nuovo a questo punto siamo arrivati al natale del 2019 taylor e wade vanno a una festa organizzata dalla zia di taylor e secondo voi chi sarà presente a questa festa di famiglia ovvio la malvagia madre di taylor shona ora wade è convinto che shona sia una donna malvagia una madre che ha picchiato e minacciato di morte e sua figlia una criminale in contatto con la mafia messicana quindi ora che wade e shona sono nella stessa stanza una discussione dovrebbe emergere in linea teorica no? ma non succede perché wade durante la festa se ne sta seduto in un angolo poverino è davvero terrorizzato non dice una parola vorrei ricordarvi che in realtà la mamma di taylor è una donna normalissima non è malvagia e non ha mai fatto del male a sua figlia arriviamo quindi all'inizio del 2020 wade e taylor stanno insieme da circa sei mesi e ormai la famiglia di wade la odia riesce a vedere taylor per ciò che è davvero quindi continuano a chiedere a wade di lasciarla gli ricordano che sta affogando nei debiti per colpa sua e wade finalmente inizia ad ascoltare la sua famiglia e i suoi amici inizia a prendere sul serio gli avvertimenti che gli danno e quindi a percepire tutti gli evidenti segnali d'allarme che ci sono stati in questi pochi mesi di relazione perché sei mesi sono davvero pochi ragazzi se pensate a tutto ciò che è successo non sembrano passati sei mesi giusto? almeno io ho avuto questa sensazione taylor però se ne accorge e si rende conto che sta per perdere wade e chiaramente non lo accetta dunque inizia a pensare a un piano c'è un modo per assicurarsi che wade non l'avrebbe mai lasciata dirgli di essere di nuovo incinta di suo figlio taylor spera che questa notizia lo renda felice ma wade stavolta non reagisce bene alla novità in realtà è terrorizzato a così tanti debiti e pochi soldi tuttavia lui sia chiaro una brava persona quindi accetta questa gravidanza lui vuole essere un buon padre desidera avere un figlio il 14 marzo del 2020 taylor annuncia sui social media che è incinta come sappiamo in questo periodo il mondo è scosso dalla pandemia tutti sono in lockdown c'è da dire che dopo l'annuncio di taylor sui social media molti suoi contatti accolgono la notizia con scetticismo tutta la famiglia di wade non le crede ormai non crede più a nulla di ciò che taylor dice e tutti gli amici di taylor quando leggono il post sui social media sono perplessi perché sanno che la donna non può più avere figli una delle amiche di taylor una donna di nome angela che è anche un'amica in comune di wade si preoccupa perché sa che taylor ha subito un'isterectomia angela quindi fa qualche ricerca va in una farmacia compra numerosi test di gravidanza di marche diverse e ha il coraggio di chiedere a taylor di farli per dimostrare che è incinta davvero taylor accetta ma tutti e dico tutti i test di gravidanza risultano chiaramente negativi e lei dice che devono essere difettosi l'amica arriva alla conclusione che taylor sta mentendo non è affatto incinta taylor teme che la sua bugia venga svascherata e per provare a dimostrare ad angela che è incinta qualche giorno dopo le consegna un modulo di verifica della gravidanza taylor spera vivamente che angela non legga troppo attentamente questo documento perché è a nome di qualcun altro non ho idea di come si sia procurata il modulo ma angela si accorge dell'inganno allora taylor le dice che c'è stato un errore di stampa quello è il nome della sua infermiera angela continua a sospettare che taylor stia dicendo un sacco di fregnacce di menzogne non crede che l'amica sia incinta quindi la accompagna in una clinica tuttavia siccome vivono le norme di isolamento dettate dall'emergenza sanitaria in corso ad angela non è permesso di accedere alla clinica quindi taylor entra da sola quando esce dalla clinica taylor stringe tra le mani un vero modulo di verifica della gravidanza anche qui non ho idea di come l'abbia ottenuto ma anche questo documento è chiaramente un falso taylor lo consegna ad angela e quest'ultima si convince definitivamente che taylor sia davvero incinta passano alcuni mesi e chiaramente il corpo di taylor dovrebbe iniziare a cambiare cosa che non accade taylor non sembra affatto incinta quindi le voci secondo le quali sta mentendo rincominciano a girare tutte e dico tutte le persone attorno a taylor sono abituate alle sue bugie al suo comportamento manipolatore e alla sua ricerca ossessiva di attenzioni ecco perché sono così scettiche taylor però ha bisogno di mettere a tacere queste voci quindi prova a procurarsi dei pancioni finti ed è a questo punto che si imbatte in un sito internet chiamato fakeababy.com ora sono andata a controllare e in effetti questo sito web esiste davvero e offre la possibilità di acquistare immagini e video di ecografie false falsi documenti di gravidanza ecco dove può aver preso quel modulo risultati falsi di dna e dei pancioni finti questo sito web si presenta come un sito di scherzi anche se io lo trovo di cattivissimo gusto taylor quindi che fa acquisto un pancione finto e inizia a indossarlo e chiaramente wade in questo periodo non la vede mai nuda altrimenti l'avrebbe scoperto il pancione almeno dalle foto che ho visto sembra davvero reale ma wade ovviamente non sente mai il bambino scalciare qualcun altro però lo rassicura dicendo che ha avvertito i movimenti del piccolo proprio qualche giorno prima un vero mistero taylor su questo sito web ha trovato il suo paese dei balaocchi compra anche dei documenti falsi sulla gravidanza e delle ecografie e mostra tutto a wade dato che vige il lockdown wade non può andare alle visite mediche con taylor può soltanto fidarsi delle sue parole la coppia tra l'altro organizza anche una festa in cui si scopre che sta aspettando una bambina e decidono di chiamarla clancy gale a seguito di questa festa non molto tempo dopo taylor e wade fanno un piccolo servizio fotografico per immortalare questo momento della gravidanza taylor condivide tutte queste foto sui social media alcune persone continuano a essere sospettose ma la maggior parte a questo punto le crede arriviamo all'agosto del 2020 taylor è incinta da sette mesi quindi entro un paio di mesi dovrebbe partorire chiaramente ora è disperata e in preda al panico non sa come fare per passarla liscia ma tutto cambia quando vede un post su facebook scritto da una ragazza chiamata reagan hancock reagan nasce il 12 novembre 1998 ha 21 anni e viene descritta come una persona dolce e gentile va in chiesa tutte le domeniche e ama passare il tempo libero con i suoi amici e la sua famiglia reagan vive a new boston in texas lavora nell'ambito dell'assistenza ai clienti e ha una figlia di tre anni di nome kinley nata da una precedente relazione ora è sposata con homer il suo attuale partner reagan e homer sono una giovane coppia innamoratissima sono convolati a nozze l'anno precedente e indovinate chi era la fotografa del loro matrimonio taylor ovviamente vi ricordate di quando taylor cercava di avviare numerose attività online ebbene tra queste vi era proprio la fotografa dei matrimoni quindi taylor e reagan si erano conosciute per questo motivo e sono rimaste amiche su facebook non sono amiche nella vita reale ma conoscenti nonostante ciò si tengono in contatto e si scambiano i like sotto i vari post che pubblicano ora nell'agosto del 2020 reagan ha una notizia assolutamente entusiasmante da condividere sui social è incinta di sei mesi ma l'ha scoperto da poco annuncia insieme ad homer che avrebbero avuto una bambina e l'avrebbero chiamata brexlin sage appena reagan posta sui social media la lieta notizia riceve un sacco di commenti da parte di persone felici per lei che le fanno le congratulazioni e una di queste persone è proprio taylor taylor le scrive che è così entusiasmante perché anche lei è incinta di sette mesi quindi sono nella stessa situazione wow incredibile taylor ben presto sviluppa un'ossessione per reagan comincia a comprarle dei regali le manda tanti messaggi vuole diventare la sua migliore amica con il passare delle settimane taylor si avvicina sempre di più alla data del parto scrive tutti i dettagli della sua gravidanza sui social inventandosi anche che ha delle complicazioni che la sua bambina non è ancora nata ha il battito cardiaco debole dice che i dottori sono un po' preoccupati ma credono che la gravidanza andrà bene ovviamente taylor riceve tanti commenti dalle persone che sono preoccupate per lei e la donna ama tutte queste attenzioni tuttavia ci sono ancora molte persone che non credono sia realmente incinta tra cui la famiglia di wade eppure lui si mette sulla difensiva ogni volta che un amico o un membro della famiglia gli spiega le sue perplessità riguardo a questa gravidanza wade dunque inizia proprio a discutere con i suoi amici e la sua famiglia ogni volta che wade rincomincia a dubitare anche solo un po' di taylor saltano fuori dei problemi di salute della bambina taylor viene portata ad urgenza in ospedale fa tutto questo con il solo fine di manipolare wade in modo che non la lasci in un'occasione wade riceve un messaggio dall'ex marito di taylor tommy in cui scrive che sa per certo che taylor non è incinta dato che aveva subito un'isterectomia wade quindi affronta taylor la quale dà la colpa alla sua mamma malvagia che sta cercando di rovinarle la vita quindi passano altre settimane è l'ottobre del 2020 e il punto è che taylor avrebbe dovuto partorire entro il 22 settembre ma il parto è il ritardo di due settimane i parenti e gli amici di wade gli ribadiscono che l'avevano avvisato gliel'avevano detto che taylor non era davvero incinta all'inizio di ottobre wade è molto preoccupato per taylor e la bambina quindi porta la fidanzata in una clinica per assicurarsi che vada tutto bene ma a ottobre 2020 c'è ancora il regime del lockdown quindi wade non può entrare con lei a parte quella prima volta con angela taylor non è mai andata in una clinica ma ora è costretta a farlo perché fuori c'è wade che l'aspetta taylor quindi entra in clinica indossando il pancione finto si siede nella sala d'attesa e appena viene chiamato il suo nome finge di avere un esaurimento nervoso inizia a piangere in preda il panico e a dire oh no 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 non posso farlo mio marito è nell'esercito ed è appena morto no no è troppo traumatico devo proprio andarmene dunque evita la visita tuttavia dice a wade che va tutto bene che le avrebbero indotto il parto il 5 ottobre quindi passano altri giorni e arriva il 5 ottobre nel frattempo i genitori di wade gli ripetono che taylor non è incinta e che non nascerà alcun bambino lui a questo punto si arrabbia tantissimo con loro perché neanche il giorno in cui devono indurre il parto alla sua compagna riescono a tenere la bocca chiusa inizia così un'accesa discussione nel frattempo taylor sta per andare in ospedale ma l'ospedale viene evacuato e chiuso a causa della minaccia di una bomba taylor quindi non può essere ricoverata stranamente la donna di nuovo dà la colpa alla sua malvagia mamma è lei che ha organizzato tutto questo perché vuole farle del male arriviamo all'8 ottobre taylor ormai è nel panico più totale perché avrebbe già dovuto partorire la donna sviluppa la mania di sedersi fuori dalle cliniche ginecologiche sta lì a guardare le donne incinte che entrano ed escono dopo le visite col passare del tempo taylor inizia a pensare che ormai per lei basta è finita quella di fingere un altro aborto non è un'opzione valida il motivo per cui si è inventata questa finta gravidanza è uno solo tenere con sé Wade taylor sa che se avesse avuto un aborto Wade forse sarebbe rimasto con lei ancora per un po' ma alla fine l'avrebbe passata liscia la verità è che Wade non ama taylor sta con lei solo perché è incinta la donna quindi ha bisogno di avere una bambina è a questo punto che si ricorda della sua amica incinta Reagan nella sera dell'8 ottobre 2020 taylor decide di andare a trovare Reagan compra dei regali per la sua bambina e le due passano tutta la sera a chiacchierare Reagan si diverte moltissimo poi taylor se ne va Reagan scrive anche su facebook quanto sia stato bello incontrare taylor e passare del tempo insieme a lei tuttavia dopo questa serata taylor torna da Wade e inizia a mettere a punto un piano perfido e contorto che credo risulterà anche a voi come qualcosa che non avete mai sentito prima decide di rubare la bambina di Reagan è il 9 ottobre taylor dice a Wade che più tardi durante quella giornata sarebbe andata nuovamente in ospedale e sarebbe stata ricoverata per fare l'induzione della gravidanza ma c'è solo un ospedale che l'avrebbe accolta e quell'ospedale si trova in Oklahoma questa però non è una bugia taylor ha effettivamente chiamato tutti gli ospedali della zona per cercare di ottenere un appuntamento ma così all'ultimo minuto l'unico ospedale che l'ha accettata si trova per l'appunto in Oklahoma tuttavia taylor dice a Wade che lui non può andare con lei in ospedale deve provvedere a stipulare un accordo di lavoro in questo modo avrebbero potuto pagare le spese dell'ospedale vi ricordo che la famiglia di Wade lavora nel settore agricolo e possiede una struttura dove vende maiali ebbene taylor è in contatto con qualcuno interessato a comprare 150 maiali da Wade per 6.000 dollari quindi la mattina del 9 ottobre Wade esce per concludere l'affare prende 150 maiali e va sul luogo dell'incontro che gli ha comunicato taylor tuttavia ben presto si rende conto che non c'è nessun acquirente che lo aspetta Wade ha guidato per ore trasportando 150 maiali per niente l'uomo a questo punto inizia davvero a chiedersi cosa stia succedendo perché taylor gli ha fatto fare quel viaggio a vuoto quando durante quel giorno avrebbe dovuto indurre il parto Wade avrebbe voluto stare con lei chiaramente taylor ha organizzato questo falso incontro per tenere lontano Wade in modo da poter portare a termine il suo piano malvagio anche perché la mattina del 9 ottobre taylor avrebbe dovuto stare a casa a rilassarsi invece sale nella sua macchina riempie il serbatoio di benzina prende una piccola colazione da mcdonald e si dirige a casa di reagan intorno alle 8 del mattino del 9 ottobre homer il marito di reagan inizia a ricevere strani messaggi da sua moglie in cui c'è scritto non voglio più stare con te non credo che possa funzionare homer è davvero confuso quei messaggi non sembrano scritti da sua moglie quindi si limita a rispondere a reagan ti amo e aspetta una risposta da lei passa circa un'ora sono le 9 e 30 homer riceve un messaggio da un vicino di casa che gli dice che il loro cucciolo è libero e corre in giro per il cortile e anche la porta del loro garage è aperta questa informazione manda homer in panico perché reagan non è mai entrata nel garage dall'esterno quindi non c'è motivo per cui sia aperto ma soprattutto reagan sta ancora mandando quegli strani messaggi a homer l'uomo quindi contatta amici e parenti chiede se qualcuno possa andare a controllare come sta reagan alla fine la madre della ragazza jessica dice ad homer di non preoccuparsi sarebbe andata a lei a farle visita jessica va a casa di sua figlia e nota che la porta del garage è aperta ma non solo vede anche delle macchie di sangue per terra e un'impronta digitale insanguinata sulla porta d'ingresso la mamma di reagan è terrorizzata decide di varcare la porta principale entra in casa e si imbatti in una scena orribile sua figlia giace sul pavimento in una pozza di sangue la donna chiama immediatamente i servizi di emergenza la polizia arriva rapidamente sulla scena e trova jessica in uno stato tremendo è isterica urla con tutta la sua voce mia figlia è morta mia figlia è morta quando i detective entrano in casa sentono anche un rumore provenire da una stanza quindi vi accedono e trovano la figlia di reagan kinley la polizia dà un'occhiata in giro e individua tantissimo sangue è ovunque sui muri sul pavimento in tutta la cucina è davvero dappertutto presto arrivano anche i paramedici che si precipitano da reagan provano a sentire se c'è battito ma purtroppo ormai è troppo tardi ispezionano quindi il suo corpo e si rendono conto che a molti preciferite ha tanti lividi e tagli riporta anche delle lesioni da difesa sulle mani una delle due dita si è quasi staccata e penzola dalla mano tuttavia il taglio più grosso inquietante e disturbante i paramedici lo notano quando girano il corpo di reagan e osservano lo stomaco scoprono così che la bambina che la donna aspettava brexlin l'è stata avuta dal grembo la polizia vi ha subito un'indagine ma è chiaro quello che è successo qualcuno è entrato in casa ha aggredito reagan le ha aperto la pancia e le ha rubato la bambina gli agenti tuttavia non sanno ancora che dall'altra parte un altro strano incidente è avvenuto una donna di 27 anni è stata fermata dalla polizia perché si comportava in modo sospetto e quella donna è proprio taylor poco prima che gli agenti arrivassero a casa di reagan a qualche miglia di distanza dalla casa della vittima taylor è stata inseguita dalla polizia perché guidava come una folla e sterzava la macchina da tutte le parti per poco non si è schiantata contro un camion e ha quasi investito un ciclista quando la polizia ha acceso le sirene e le ha chiesto di accostare taylor si è rifiutata e ha chiamato lei stessa al 911 per dire all'operatore al telefono che si trattava di un'emergenza medica e che la polizia dietro di lei avrebbe dovuto lasciarla in pace tuttavia a un certo punto taylor si è fermata e l'ufficiale di polizia che si è avvicinato alla sua auto ha visto che la donna teneva una neonata in grembo c'era sangue ovunque e il colore ombelicale della bambina era nei pantaloni di taylor ora taylor sostiene che stava eseguendo la rianimazione cardiopolmonare sulla neonata e taylor quindi continua a urlare questa è un'emergenza ho bisogno di raggiungere un ospedale taylor dice all'ufficiale chi aveva dato alla luce sua figlia sul lato della strada vengono chiamati i paramedici che arrivano sulla scena molto rapidamente la bambina viene controllata ma non sta respirando non c'è alcun battito cardiaco i paramedici dicono che hanno la necessità di portare la bambina all'ospedale più vicino perché la piccola ha bisogno di cure immediate ma taylor si rifiuta esclama no no non possiamo andare all'ospedale più vicino dobbiamo andare al mio ospedale che è in oklahoma forse vuole essere in un altro stato in ogni caso è così convinta che incredibilmente i paramedici cedono quindi taylor e la bambina vengono portate d'urgenza all'ospedale da lei indicato la bambina viene rianimata durante il viaggio verso l'ospedale ha il battito cardiaco debole ma è viva la piccola viene portata in terapia intensiva giustamente perché ha bisogno di cure immediate ed è veramente in pessime condizioni purtroppo ma i medici vogliono visitare anche taylor dato che aveva appena partorito sul ciglio di una strada insomma devono controllare che stia bene che non abbia un'emorragia in corso ma taylor si rifiuta nonostante ciò i medici giustamente insistono e taylor non ha scelta deve farsi visitare i dottori che si preoccupano di visitarla non riescono a credere a ciò che scoprono dallo shock il cuore umbilicale trovato addosso a taylor non proviene da lei inoltre la donna non produce gli ormoni che in lei dovrebbero essere presenti dato che era incinta e aveva appena partorito ancor di più i medici si accorgono che non ha l'utero c'è un video su youtube dove potete vedere i filmati della body cam degli agenti di polizia che all'ospedale parlano con taylor il dottore che le ha fatto l'esame entra nella stanza di taylor e dice in modo molto schietto beh la bambina di sicuro non è uscita da lì e ancora non sembra che abbia avuto un bambino la polizia quindi si avvicina e le dice taylor cos'è successo questa bambina chiaramente non è tua quindi dici che cos'è accaduto taylor inizialmente risponde non so di cosa state parlando quella è la mia bambina ma la polizia le dice che è chiaro che non l'ha partorita lei taylor quindi crolla inizia a piangere disperata in questo esatto momento la polizia riceve un rapporto sull'omicidio di reagan su come la sua bambina le è stata portata via la polizia legge il rapporto e guarda taylor una donna è morta qualcuno le ha racconto la bambina e taylor è arrivata in ospedale con una neonata che chiaramente non ha partorito lei è naturale il sospetto che sia taylor la persona che ha ucciso reagan e che le ha sottratto la figlia la polizia in possesso di queste informazioni continua a fare domande a taylor ma la donna continua a piangere disperata dicendo di non avere nulla a che fare con quell'omicidio quindi che fa inventa una nuova versione dei fatti dice agli investigatori che è stato un incidente lei non voleva farle del male racconta che era andata a trovare reagan avevano avuto un'accesa discussione e reagan aveva tirato fuori un coltello taylor riferisce che hanno iniziato a spingersi e reagan alla fine è caduta proprio sul coltello incredibile no? taylor afferma che quella è stata una combinazione tra legittima difesa e un incidente taylor quindi procede dicendo che reagan caduta accidentalmente sul coltello si è resa conto che stava morendo quindi ha implorato taylor di sventare la pancia per tirare fuori la bambina salvarla e prendersene cura rendetevi conto la nuova versione di taylor chiaramente è assurda converrete con me sostiene che stava soltanto esaudendo desideri di reagan wow wow mio dio ma la polizia ha letto il rapporto sa che reagan è stata trovata con tante tante ferite anche da difesa quindi è chiaro che era lei la vittima presto la polizia scopre che taylor stava fingendo di essere incinta da ben nove mesi perché aveva postato tutto sui social la polizia esamina anche la cronologia delle ricerche in internet di taylor e scopre che negli ultimi giorni aveva digitato su google come eseguire un taglio alla 34esima settimana ebbene reagan era incinta proprio di 34 settimane taylor ha anche guardato un video su come eseguire un taglio cesareo inoltre se ricordate era riuscita a ottenere un lavoro nell'ufficio di un'ostetrica dunque poteva assistere ai tagli cesarei che venivano praticati nel reparto chirurgico il corpo di reagan era stato trovato con un bisturi infilato nel collo che certamente taylor aveva portato con sé per eseguire il taglio cesareo grazie all'autopsia sul corpo di reagan vengono trovate le unghie di taylor conficcate nella per cui la polizia conclude che la poverina era ancora viva mentre taylor eseguiva il taglio cesareo reagan stava ancora lottando mentre taylor strappava il corpo della sua bambina dal suo ventre solo taylor sa esattamente ciò che è successo in quella casa ma non intende rivelarlo sulla base delle prove rinvenute sulla scena del crimine e delle ferite presenti sul corpo di reagan si pensa che taylor sia andata a casa sua e che abbiano avuto un alterco taylor aveva colpito reagan in testa con un barattolo che le aveva causato un trauma cranico da corpo contundente reagan era caduto a terra taylor aveva iniziato a pugnalarle e aveva tirato fuori il bisturi per estrarle la bambina dal c***o mentre era ancora viva dopodiché taylor aveva pugnalato reagan al collo con il bisturi è in questo modo che la donna ha tragicamente perso la vita taylor poi era fuggita dalla scena del crimine e aveva cercato di raggiungere l'ospedale la donna chiaramente viene arrestata mentre è ancora in ospedale è accusata di omicidio di primo grado la bambina brexlin si trova in terapia intensiva e i medici fanno di tutto per salvarle la vita ma tragicamente alle 13 di quel pomeriggio la piccola viene dichiarata senza vita è deceduta per mancanza di ossigeno ma se fosse stata portata in un ospedale più vicino avrebbe potuto essere salvata taylor ha distrutto diverse vite la famiglia di reagan è devastata suo marito omer ha perso la donna che amava e la figlia che stava per nascere e la bimba di tre anni di reagan non potrà crescere con la sua mamma che è stata uccisa nella stanza accanto a quella in cui si trovava lei ma anche wade è sconvolto dalla terribile scoperta e si sente immensamente in colpa a seguito dell'arresto taylor viene rinchiuse in prigione e poi due anni dopo nel settembre del 2022 va a processo si dichiara mi chiedo con quale coraggio innocente pensa di riuscire a cavarsela raccontando altre bugie tuttavia una volta iniziato il processo è evidente che taylor non la farà franca questa volta ci sono davvero troppe prove contro di lei tutta la sua rete di bugie si smantella e ogni verità nascosta emerge i due ex mariti di taylor tommy e hunter si fanno avanti per testimoniare così come la famiglia di taylor inclusa sua madre shona shona la sbarra spiega di non essere né ricca né malvagia non aveva mai cercato di uccitere sua figlia chiaramente così anche way decide di testimoniare per l'accusa è chiaro che l'omicidio di reagan e il rapimento della sua bambina erano premeditati ricordate quando vi ho detto che taylor si tratteneva fuori dalle cliniche per guardare le donne incinte ebbene aveva notato le targhe delle macchine di tutte le pazienti in modo da scoprire dove vivevano e valutare se sceglierle come vittime taylor voleva rubare un bambino e alla fine aveva scelto quello di reagan in meno di 90 minuti la giuria conclude che taylor è colpevole la sua sentenza dispone che verrà condannata a morte taylor è la settima e più giovane donna rinchiusa nel braccio della morte in texas e anche in prigione ha causato parecchi problemi ha litigato tante volte con altre detenute o ha avuto delle relazioni con alcune di loro ha manipolato le guardie carcerarie è stata sorpresa spesso in possesso di merce di contrabbando il caso di taylor parker è tragico e sconcertante evidenzia una serie di comportamenti estremamente pericolosi e anche profondamente privi di empatia e umanità credo fossero tutti indicativi di disturbi psicologici gravi che avrebbero richiesto una valutazione e un trattamento professionale adeguati io ho finito di parlare in questo video fatemi sapere se conoscevate questo caso perché ho notato che la notizia è arrivata anche in italia l'hanno riportata anche i nostri giornali quindi fatemi sapere se conoscevate questo caso ovviamente un caso terribile e io credo una cosa se non ci fosse stato il lockdown taylor non sarebbe riuscita a portare avanti questa bugia perché è già stata beccata con il marito precedente di fingere una gravidanza no ed è stata beccata perché il suo ex marito era entrato con lei dal dottore quindi a mio avviso se non ci fosse stato non ci fosse stata l'emergenza sanitaria non sarebbe riuscita a portare avanti questa questa bugia io ne sono profondamente convinta fatemi sapere voi che cosa ne pensate questo caso è tragico crudo triste crudele assurdo specialmente perché ragazzi taylor non sentiva il bisogno di avere una bambina ok non si tratta di una donna disperata che non riusciva ad avere figli e quindi ha commesso questo atto tragico terribile tremendo no taylor aveva già avuto due figli e non li calcolava di striscio quindi è ancora più triste pensare che questa donna avrebbe rubato la bambina di un'altra solo per tenersi il fidanzato santo cielo perché sicuramente poi anche quella bambina se fosse andato tutto bene se non l'avessero beccata cosa assolutamente impossibile però nel lontano caso in cui non l'avessero beccata taylor avrebbe iniziato comunque a non calcolare più neanche questa bambina perché non ha mai calcolato i suoi figli poi se ci fate caso in in questo in questa storia molto molto triste per un po' di tempo viene citata la figlia ok di taylor ma a un certo punto sembra quasi che questa figlia non esista più eppure questa figlia è andata a vivere insieme a lei con wade e quindi sarei anche curiosa perché non ho trovato fonti a riguardo sarei curiosa di sapere se di questa bambina se ne occupava wade oppure se ha continuato a occuparsene taylor perché visti i suoi comportamenti del passato mi viene da mi viene da pensare che quella bambina è stata molto più calcolata da wade che da taylor in ogni caso fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa terribile fatto di cronaca e come avete visto comunque il processo si è svolto poco tempo fa relativamente poco tempo fa e quindi nulla io vi aspetto qui sotto nei commenti per sapere le vostre opinioni e vi vi mando un bacione e vi auguro buon natale e ritardo passate delle buone feste buon natale e buon anno a tutti quanti a tutti voi e niente noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti grazie a tutti